Il problema della piorrea o malattia parodontale, che è il termine tecnico, è la terapia. La terapia è una terapia protocollata, non c'è niente da inventare e si basa su alcuni punti fermi. Il primo punto è la pulizia dell'area gengivale, che va fatta sopra gengiva, ma successivamente con degli strumenti particolari sotto gengiva e al nome di root planing. Il secondo passaggio è l'utilizzo o meno di antibiotici che sono specifici, perché hanno delle secrezioni salivari, perché si concentrano particolarmente, che sono praticamente dei fattori di aiuto nei confronti della pulizia meccanica. In pratica si fa una pulizia chimica con l'antibiotico e una pulizia meccanica con questa levigatura delle radici, che si chiama root planing. Alla fine di questi trattamenti si può decidere di fare un intervento chirurgico, cioè un'apertura delle gengive per andare a pulire in determinate zone, che sono quelle più gravi, ma alla fine di questi trattamenti si fa soprattutto un sondaggio parodontale per capire quali denti sono stati recuperati dove la gengiva si è richiusa anche avendo perso una certa quota di osso e quali sono invece i denti che sono perduti, perché nonostante i trattamenti non c'è abbastanza osso, la gengiva non ha più avuto la capacità di richiudersi e quindi sono denti da togliere. Questa valutazione non va fatta prima, questa valutazione va fatta dopo, nel senso io faccio una stadiazione grossomodo della malattia, faccio una terapia chimica, una terapia meccanica, il paziente a casa si lava come un santo, perché questo è il punto cruciale, dopo di che valuto quali sono i denti recuperati e quelli persi, perché ho fatto tutto quello che potevo per questa malattia, a questo punto devo capire se ho salvato tutto, se c'è qualche dente che non può essere recuperato. Queste sono le regole, i protocolli per la terapia della malattia parodontale, ma questi protocolli non dicono la cosa essenziale, la cosa più importante, la cosa che io vorrei che tutti sapessero. Quando avete dei segnali che possono essere anche non quelli di una piorea, ma semplicemente di un sanguinamento, fatevi controllare.